A pensarci bene non sarei dovuto arrivare nemmeno a 30 anni. Sembra sempre di camminare al buio completo. Certe guerre te le porti dietro. A volte ci convivi. A volte riesci a farci pace. Quelli come me hanno l'aspettativa di vita bassa. 40 è più di quello che avrei mai sperato. Ora è tutto in discesa. La vita è iniziata di nuovo. Adesso. Come mi chiamano? Ferro. 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 Ferro.